Sembrano semplici zattere ma in realtà sono i nidi artificiali scelti dalla sterna comune giunta in Toscana dopo l'inverno trascorso in Africa per nidificare e deporre le uova. Siamo nella riserva naturale della diaccia Botrona nel comune di Castiglione della Pescaia dove la regione toscana ha finanziato la realizzazione in collaborazione con i comuni di Grosseto e Castiglione della Pescaia di nidi artificiali galleggianti già sperimentati con successo tra 2017 e 2018 insieme al WWF nella laguna di Orbetello dove il rischio per questa preziosa specie avicola è legato agli sbalzi di livello dell'acqua. Le prime sterne sono arrivate e hanno deposto le uova destinate a schiudersi nell'arco di una ventina di giorni. Là potete vedere il nido, quello che noi chiamiamo il nido artificiale che non è altro che una zattera di legno con una zona ombreggiata dove diciamo l'animale può deporre le uova. Dentro la zona ombreggiata è stato ricreato un po' il terreno adatto per la deposizione delle uova. Obiettivo tutelare la biodiversità in una riserva naturale, la diaccia botrona che con la laguna di Orbetello è una delle zone umide di importanza nazionale. Da qui la necessità di una stretta collaborazione tra regione e comuni per aumentare la disponibilità dei nidi. Abbiamo cercato di ragionare nell'ottica di una maggior fruizione e valorizzazione di tutto quanto il compresso. Per quanto riguarda l'aria abbiamo appunto questa Convenzione 3, Comune di Castiglia Pescaia, Regione e Comune di Grosseto, capofila della Regione Toscana e insieme coordiniamo quelli che sono gli interventi da fare sull'area umida. I nuovi nati dalla cova dei nidi allestiti sulle zatteri una volta cresciuti lasceranno la riserva che li accoglierà nuovamente a distanza di un anno per una nuova nidificazione di cui saranno a loro volta protagonisti.